ciao a tutti ragazzi oggi ho fatto questo video dopo aver visto il video di Paul Lim dove si benda gli occhi e lancia le freccette io tante volte gioco ad occhi chiusi ma devo dire che giocare a occhi chiusi e giocare con la benda è molto molto diverso perché la benda ti dà fastidio ti deconcentra quindi è molto difficile chiaramente avevo una collaboratrice che mi diceva a che punto ero del bersaglio guardate quello che ho fatto poi andate magari a vedervi anche il video di Paul Lim lui ha fatto 30 io ho fatto di più adesso voi vedrete quanto ho fatto e non ho tirato neanche una freccia fuori dal bersaglio state lì e guardate ciao ciao a tutti 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 Grazie.